Le dichiarazioni di Alfano, che il governo non dovrebbe dimettersi in caso di vittoria del no, dimostrano come il ministro dell'interno si è attaccato con il Vinavil alla propria poltrona. Malgrado la minaccia che lui possa rimanere il ministro dell'interno, invito tutti i cittadini ad andare a votare no, perché malgrado questi personaggi vogliono tenersi potere e posto, sarà la forza del popolo, con un voto democratico, un voto del no, a mandarli a casa.